da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche e sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche d'arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo laura e marco ti aspettano presso lo showroom a rio salso di tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio hai visto quante novità al conade di montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al conade di montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al conade di montecchio buonasera a tutti gli amici di insieme a canestro e benvenuti alla ventiquattresima puntata della nostra trasmissione finalmente vi abbiamo lasciato la scorsa puntata dicendovi speriamo di raccontarvi belle cose ed è la seconda volta consecutiva per la prima volta in questa stagione in cui riusciamo a farlo perché per la prima volta la vl ha messo insieme finalmente due successi di fila allora sarà una puntata felice tra poco passerò a presentarvi i miei ospiti vi ricordo che potete seguirci in diretta sul canale 80 di rossini tv visibile in tutta la regione poi sulla nostra pagina facebook in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare e anche sul sito internet di rossini tv ancora un ringraziamento dunque ai nostri sponsor fedelissimi con ad montecchio e macchini ceramiche e ora passo a presentarvi gli ospiti di questa sera siamo molto contenti di accogliere nei nostri studi anche perché appena arrivato load on love pivot della carpegna prosciutto welcome ok bene io will speak with us about your life basketball and so many things ok bene allora lo conoscerete meglio come personaggio e dall'altra parte del tavolo di fronte a me invece un caro amico spiroleca ex coach della vl in generale allenatore per poi ci racconterai quello che hai fatto in questi anni in cui qualcuno magari ti ha perso di vista ma noi no buonasera grazie per l'invito è un piacere far parte della trasmissione ringrazio naturalmente giovanni bruscia che a fianco di love per la traduzione adesso passo la parola a giovanni zidda come sempre è lui che vi mette in contatto con noi per le domande e anche per rispondere al contest che lanceremo fra poco che riguarda proprio spiroleca e mette in palio due biglietti per la partita di domenica 28 aprile contro cremona l'ultima tra l'altro di stagione regolare in casa e quindi a chi risponderà per primo avrà i due biglietti per venire al palasporto vai giovanni buonasera betta buonasera agli ospiti studio buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono anche questa sera siamo arrivati alla 24esima puntata di questa terza stagione di insieme a canestro vi ricordo come sempre 370 366 72 10 oppure potete commentare nella diretta facebook di rossini tv il contest che riguarda proprio nostro ospite spiroleca che mette in palio quindi due biglietti per la partita contro cremona possiamo parlare del 2016 e 17 spiroleca allenatore della vl si salvò vincendo una partita fondamentale con milano nella penultima giornata vogliamo sapere quindi il risultato di quella partita vi informiamo che domani alle ore 10 e 30 ci sarà sui canali social della vl la conferenza stampa di romeo sacchetti per presentare la partita di sabato che vede alle ore 19 e i nostri biancorossi a tortona domani e sabato sera che potete seguire su da zona e tanti auguri invece vanno al nostro grande max belegni il nostro telespettatore di fiducia che ci segue sempre tanti cari auguri dalla redazione di rossini tv bene allora spiro naturalmente non puoi rivelare il risultato di quella partita anche se ce l'hai scolpito in mente dopo ne parleremo perché è stata una delle rocambolesche salvezze conquistate in in questi anni in cui tu eri in panchina adesso ci concentriamo un attimo su lodon l'esatta pronuncia del tuo nome di usbora l'audon ok l'audon allora hai avuto solo tre barra quattro allenamenti per inserirti nella tua nuova squadra come hai fatto essere così pronto su cosa avete puntato con il coach per prepararti al debutto oh yes it was obviously a little different it was a quick turn around for my arrival the group of guys made it easy though they um they welcomed me in quite quite easily and then uh did their best to teach me the plays and whatnot um shortly after that i got a playbook so that part of it was was easier to figure out uh where to fit in is a little different um and learning people's play styles but slowly figuring that out as well um but they all play so hard that it's um it makes it easy to kind of fit in when you can um and they all even when they're getting tough on you um they all have good intentions so it's it's easy si è stato tutto molto affrettato però devo dire che c'è stato subito un bel punto di svolta perché comunque sono entrato per parte di questa squadra e l'ho fatto anche bene grazie a miei compagni di squadra che mi hanno spiegato quello che serviva a fare anche in base al al piano partita al playbook e devo dire che mi hanno accolto molto bene mi sono inserito molto bene la squadra nonostante appunto fossi arrivato da pochi giorni quindi e abbiamo messo in campo anche tante intensità in partita poi alla fine è andata bene quindi sono sicuramente contento di come è andata questa mia prima veloce esperienza peso adesso sono pronto per gli altri partiti che manca chiedo ad andrea sabatini intanto di mostrarci le immagini della partita con pistoia possiamo rivedere qualche azione ecco qua un contropiede di cincia ci sono state veramente delle azioni fregevoli qua una delle bombe di mazzola che ha aperto la partita che ha un po aperto anche la difesa e questo è il primo canestro di love al volo appena entrato quindi insomma dai subito un buon impatto no primo passaggio primo canestro al volo oh yeah yeah no that was definitely i wasn't expecting to be honest i thought he was going to put it up but like i said we all still play the same game no matter how different is between america and here and even the language barrier a little bit so we were able to kind of get past that with just the feel for the game and it felt great to get those first two points out of the way quick get nerves settle a little bit because it was loud in there and there were a lot of people that were cheering so i think that made it easier as well because we the whole arena kind of on our side si devo dire che è stato tutto molto inaspettato perché anche quel passaggio non si aspettava subito così di essere aspettato prima dei punti aspettate tutto molto diciamo cotto e mangiato quindi sicuramente è stato bello anche poi comunque arrivare dall'america e giocare in un contesto diverso come quello italiano con tutte quelle migliaia di persone presenti l'arena sicuramente caricato stato sicuramente un bel carico di di confidenza senti ispiro una partita quella con pistoia approcciata talmente bene che il vantaggio è subito lievitato no è però ricordando quello che la squadra di brienza aveva fatto prima a milano e poi a bologna rimontando scarti importanti anche da meno 17 meno 15 e poi sbancando non è che siamo stati tanto tranquilli fino all'ultimo ma è normale adesso con i trip con i tre punti ci sono sempre con dei cavolgimenti di fronte facili facili più più spessi quella con bologna è stato clamoroso perché è stata un percentuale da 3 7 su 8 in quel momento lì dei due del willy smur premiata ditta succede è successo in quel momento lì per loro però loro giocano in fiducia loro hanno è quella che ti fa rendere 30 40 per cento in più con una squadra un gruppo in fiducia io li conosco perché ho giocato con loro quando erano in a 2 un anno fa e hanno mantenuto sei decimi di quella squadra inserendo quattro americani di qualità e sono stati bravi che con un budget non eccesso anzi uno dei più bassi hanno fatto penso brienza mvp quest'anno infatti anche mio sacchetti che è stato qua la settimana scorsa ha detto per me non c'è dubbio su chi è l'allenatore dell'anno si 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 con il materiale umano e con le risorse a disposizione ha fatto fino adesso nel migliore 8 in coppa mi sembra giusto che sono usciti anche lì ma hanno fatto un lavoro una nata strepitosa tanto di merito in questi casi chapeau senti ma allora sono più determinanti gli americani o gli italiani a questo punto perché noi eravamo convinti con la nostra squadra con la nostra spina dorsale italiana di avere veramente un impatto notevole però pistoia ti ha dimostrato che pur avendo giocatori per carità bravi però molto umili come del chiaro della rosa saccaggi però avendo azzeccato gli americani va nel playoff ma non è così drastica la cosa per me il basket non è matematica ma è che misteri e con la chimica perché deve essere un insieme di dei protagonisti qualcuno deve essere gregario ma qualcuno deve diventare protagonista solo in quel caso di come è successo con con pistoia ci hanno due tre che sono sempre sui ventelli 25 altri che portano acqua tra ribalzi difesa aggressiva ognuno sa il suo ruolo ognuno c'ha la gerarchia è molto importante di avere il ruolo in squadra che lo accettano tutti te guarda dove sono dei problemi perché molti pensano ai 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 minutaggi ai minutaggio ai punteggio e così a danno della squadra chi c'ha la fortuna e la bravura di di mettere gli obiettivi individuali dei giocatori in cura della squadra è già in buon punto quindi questa chimica che pesaro ha trovato solo alla fine potrebbe però aiutarla molto pesaro per me ha trovato la chimica perfetta nell'ultima partita otto giocatori da da 8 a 17 punti tutti coinvolti tutti importanti per la causa bisogna pensare hai detto prima il sogno di ogni allenatore di essere così sono tutti contenti tutti coinvolti e ognuno vuol dare cia l'importanza in quel gruppo nell'economia della della partita sono perché essendo coinvolti in attacco vuol dire dare di più anche in difesa dopo che sei deve sei sempre più propositivo aiutarsi e non pensare solo al tuo uomo ma essere anche pronto aiutare quando è il momento giusto e questo fa che si recuperano quei tre quattro palloni che c'è andato in contropiede o un altro ancora che poi mazzola sta facendo le ultime tre partite nel migliore il miglior momento che proprio quando serviva quando ci ha fatto male totè abbiamo avuto paura però alla fine invece è stato l'uomo della provvidenza ma anche a treviso una partita che è sfuggita per niente perché ho giocato bene insomma è stata una gara giocata non sono non sono facili giocare queste in out games adesso per questo io dico ho trovato la chiave la chiave adesso anche con l'arrivo di di love loro le ultime tre partite focus focus sul next one sulla prossima che lì dopo facciamo i conti come abbiamo fatto sempre noi pesano abbiamo abbiamo fatto il callo su questa roba qua senti torniamo da laudan per parlare un po della della sua carriera ecco se ci vuoi raccontare qualche cosa del tuo passato al college e poi se hai mai avuto delle speranze per l'nba io dei sogni insomma per l'nba oh yeah i mean of course i think after college the hope was just to continue playing basketball as long as I could and be around the game for as long as I could at some point I'm sure it'll transition into coaching of some form but prior to this just been in the G league had injuries I had to recover from and I had a fun very you know fruitful experience in college obviously that's always part of the dream but everyone's path is different and finding a way to work what I do well and my expertise within the confines of the game and find a way to play the highest level yes for sure is a goal but really just trying to stay present at the moment with what the objectives are for us here in peso and you know finish out this season strong before going into off season type type mindset for sure ma sicuramente c'è stata l'esperienza dei college che per me è stata molto importante poi l'obiettivo una volta uscito al college era quello comunque di continuare a giocare a basket cosa che ho fatto e ci sono state per quanto mi riguarda delle esperienze in g league purtroppo ho dovuto fare anche dei conti con degli infortuni seri piuttosto seri però questo comunque non ha pregiudicato il mio percorso continuato a giocare a basket alla fine sono arrivato qui a pesaro e sicuramente sogno di giocare ad alto livello quindi anche magari puntare magari anche un posto in via perché no c'è però sono focalizzato soltanto sul presente quindi cercare ovviamente di chiudere al meglio questa stagione qui a pesaro e poi dopo entrerò anche mentalmente in quella che sarà la post season e da lì poi voluterò senti ma c'è lo stesso agonismo perché ne parlavamo proprio con con il tuo coach c'è lo stesso agonismo in g league che hai trovato qui in italia agonismo in campo e anche sugli spalti tutta questa gente oppure tough question i think certain arenas in the g league have they're all smaller venues if i do say so myself but some marinas are good nothing like this it's a little different we play numerous games a week not all fans show up for all those here it's once a week and you have you know the town the city and all the fans show up and it's very loud it's a whole different situation the fans cheer differently they're usually on their feet 90 percent of the time i mean it is it's something special it brings a lot of energy to you as a player on the bench so even just for me coming out of the g league i finished my season there there was just a renewed kind of energy a different kind of energy but it was definitely nice to feel as like an athlete on the court trying to perform so definitely different sicuramente la domanda impegnativa la risposta anche perché comunque diciamo che in g league ci sono delle arene dei palazzi in cui c'è la stessa una parte della stessa energia però sicuramente posso dire che non mi era mai capitato di giocare in un contesto così intenso così energico come quello di peso in cui ci sono veramente migliaia di persone che vengono fanno il tifo urlano in tutti i modi e si vede proprio che c'è il trasporto in una città intera come pesaro dietro quindi sicuramente anche in g league ci sono delle realtà in cui si sente molto il calore dei tifosi e anche se sono previste più partite durante la settimana mentre invece qui si aspetta tutta la settimana per andare a tifare quindi sicuramente la carica è bella intensa senti ispiro un pivot di 2 0 3 difficile che abbia una dimensione NBA forse l'europa per un ragazzo come lui potrebbe essere il posto migliore per esprimere la sua palacanestra cosa pensi ma lui non deve mettere limiti come lo vedo che c'ha la testa giusta per avere un futuro vedo che ha le idee chiare però è vero è vero perché adesso stanno giocando dei playmaker di 2 metri 5 in NBA ma non vuol dire niente perché lì sono ruoli più specializzati è un altro basketball in NBA è un altro basketball qui in Europa ognuno deve trovare la sua dimensione ricordiamoci che molti giocatori non vanno in NBA per giocare in Euroleague e preferiscono fare quelle due partite alla settimana che in America come ha detto anche l'ho molte volte c'è back to back si fanno 3 4 partite alla settimana e con la parte dell'intensità molte volte vai in palazzieri sono 300 persone magari in G League dopo tornino un altro con 6 mila dipende in quale in che zona sei per questo importante che lui continua a lavorarci e migliorarsi dopo sai noi abbiamo siamo stati testimoni di molti rucchi che sono arrivati qui danno ziche o altri che sono partiti qui danno rucchi e dopo sono andati finire in Euroleague a fare la loro carriera e noi contenti per loro e tu hai avuto Mika anche che lo ricorda secondo te un po' pivot bianco come lui si diverso la fisicità è un po' più più vertica più alto però adesso l'ho incontrato a Las Vegas lui preferisce rimanere in G League perché vive vicino a casa c'ha i due figli c'ha il figlio insomma e mi ha detto mi ha confessato che mi danno un sacco di soldi per giocare qui in Inigite in Las Vegas la squadra di Las Vegas Do you know Eric Mika? Eric Mika? Big man and you are kind of familiar He played there, now he's in G League Ok, yeah, yeah, no, it sounds familiar I'm not sure if I played against him this year if he was on the Eastern Conference we played on the West more than any The name does sound familiar though Alcuni nel momento che alcuni prendono a 250 mila d'oro in Lira preferiscono di non venire in America perché dipende anche lui di famiglia sta bene Certo Dipende dopo dalle scelte individuali però giocare in Europa molti lo stanno capendo sempre di più anche venendo da un'esperienza di sette mesi in America loro sono molto più aperti e si sono resi conto che in Europa si insegna molto meglio il basket e si gioca anche un buon basket specialmente di altissimo livello in Eurolega dove anche allenatori come quello di Boston che sono primi in classifica Mazzulla ha detto che io copio, io guardo il basket in Eurolega e da lì prendo spunti tecnici e tattici per la mia squadra Dopo ti facciamo raccontare questa esperienza non a caso hai addosso la felpa di Columbia Basketball Assolutamente perché sono sotto contratto fino a giugno con loro Devo mantenere, devo guadagnare la pagnotta mi hanno detto che anche quando sei là devi collaborare con noi per qualche scouting perché qualche cosa che loro sono in contatto con loro continuo a guardare i loro workout perché abbiamo l'applicazione perché da casa guardo tutti gli allenamenti e faccio la relazione al coach bellissima esperienza che stai facendo dopo te la facciamo raccontare volevo solo dire a Giovanni se ci sono domande da casa facciamo una pausa Iniziamo con Claudio una domanda per l'Ovo ho notato una bella, durante l'atletica nel pre-partite con Roberto Venerandi una chiacchierata parecchie volte con Trevon Bluiet ti sei legato fin da subito come stanno andando il rapporto con Trevon con Trevon Bluiet con Trevon Bluiet dove in America, 82 game in NBA season la gente può diventare per loro per le loro ragioni quindi credo che il obiettivo è che portare le persone insieme e sto cercando di portare una energia positiva con tutti i ragazzi e credo che sia più facile che sia più difficile sicuramente ho legato con tutti i compagni in squadra con Trevon ci siamo trovati nello specifico perché comunque ho visto che come con gli altri condividiamo la stessa intensità lo stesso desiderio la stessa passione di raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati e che saranno prescindibili per quanto riguarda la nostra società sicuramente quando arrivi in un contesto del tutto nuovo e sei un po' alle prime armi nelle prime esperienze sicuramente è anche bello comunque trovare questa unione di intenti. Sì, ma tra l'altro Trevon credo che sia un ragazzo ben voluto da tutti, anche se magari è stato tanto criticato dai tifosi perché sembrava un po' assente, ma in realtà è un bravissimo ragazzo, anche qua a me mi aveva fatto un'ottima impressione e so che anche Foreman quando è arrivato qua ha legato particolarmente con lui, forse si conoscevano anche già, quindi spezziamo una lancia anche per certi ragazzi che magari sono stati conosciuti secondo me non nel modo giusto, perché le cose non sono andate bene e quindi a volte c'è il rischio di considerare un giocatore male, ma magari in realtà la sua personalità era un'altra. Quante volte è successo che un giocatore si sposta ad un'altra squadra, ad un altro contesto e viene fuori, fa dei numeri grossi, per questo molte volte dipende dal contesto, dall'equilibrio di una squadra, dalla fiducia che ti danno, la fiducia che c'ha dai minuti è se sei pronto a prendere quelle responsabilità, è questo. Se te le danno anche, perché se sei la quinta opzione magari. E poi dipende dai teammates che c'hai, insomma dai compagni di squadra, come accettano il tuo ruolo e questo qua. Ok, Giovi? Ludon, sabato salgo a Casale Monferrato per la partita, noi tifosi contiamo veramente molto, soprattutto in trasferta, e speriamo sul tuo contributo. Se già entrato nei nostri cuori, noi peggioriggi vogliamo questa vittoria, Paolo è tifoso Bonanza, dal 1975. Ci arriva invece una domanda che polgo a te, vediamo se, scusa, se vuole dire qualcosa sul fatto che già i tifosi credono in lui dopo una solo partita. e non solo dopo una partita, ho avuto una grande passione. Oh, no, io apprecia che tutti gli aspettavano le domande e essere, you know, involvati in questo, per sicuramente. I didn't, you know, even in our last home game, I saw the fans from Pistoia, and I was like, are those their fans? And my teammates were like, yeah, and I was like, do we travel? And they were like, we absolutely do. So I think on Saturday, too, if we travel people, that's a great look. Excuse me, I think everyone is just very, everyone is fired up to kind of end the season the right way. And the fans, you can just tell love to be around the game and they love to support us as much as they can. So I just like that energy to continue to flow through us and onto the court. Beh, sicuramente per me è molto bello vedere comunque tutte queste domande, queste manifestazioni di interesse ai miei confronti e una cosa particolare che ci tengo a dire è che magari sabato prima della partita ho detto ai miei compagni di squadra ma questi sono i tifosi di Pistoia, sono così tanti in trasferta. Lui ne hanno risposto sì, ma guarda che anche i nostri sono tanti quando giochiamo fuori, quindi li vedrei già contro Tortona e ovviamente non posso che essere contento di sapere che verranno in tanti a Casale Monferrato e sicuramente questa è un'altra carica di energia per noi e per me. Ecco, a proposito di questo, Betel Lorenzo è il nostro carissimo tifoso delle gradi in alte e ci chiede però una domanda, possiamo dire uno spunto per te, Betel. Siamo giunte alla partita più fondamentale del campionato, la partita in cui serve veramente il supporto di tutti i tifosi pesaresi. Mi domando come mai nessuno si prende a carico di rendere disponibile un pullman o più pullman per agevolare questo spostamento di tifosi perché purtroppo si parla di questi giorni che purtroppo non c'è il pullman e devono andare con le macchine. Allora, lanciamo l'idea a chi può aiutare, alla società o a chi affitta i pullman o a chi è tifoso e sicuramente sì, sarebbe bello fare trasferta con una bella colonna di bus come è stato in certi spareggi. È anche vero che questi sono giorni in cui ci sono i ponti e quindi molte persone che sono in gita, turisti eccetera probabilmente non hanno trovato la disponibilità. il viaggio è tanto lontano però è sabato quindi giorno dopo anche se si torna tardi magari non bisogna andare a lavorare questo può aiutare sicuramente perché secondo me in certe partite essere lì o guardarla in tv è un'altra cosa e soprattutto per la squadra è un'altra cosa. vuol dire molto quando i giocatori escono al riscaldamento e vedono che c'è un buon numero di supporters ti dà quella carica te lo ricordo dal vivo che è la responsabilità ancora di più e ti dà anche un affetto non vedi l'ora che finisci come deve finire per cercare di condividere con loro. Giovanni ha ancora? Sì allora abbiamo Tiziana a Betta per sabato provvede una lotta intensa secondo me è un 82 a 76 per noi me lo segno questo me lo segno pure Spiro ci chiedono Enrico ci chiedo ti vada a Pesaro l'estate la trascorri qui un po' come funziona? come sta andando? Allora adesso le aggiungo la mia domanda Spiro sappiamo che dopo l'esperienza di Pesaro è stato a Ferrara per quasi 5 stagioni poi Ferrara ha fallito e quindi purtroppo si è interrotto un'esperienza dove stavi andando molto bene ho tanti amici a Ferrara che eri veramente tanto apprezzato ti volevano bene avevi lavorato bene quindi quella poteva essere una brutta botta al morale invece hai trovato questa possibilità di andare in America e raccontaci un po' come hai trovato? Sì chiuso il discorso Ferrara che ci è dispiaciuto per come è finito perché avevamo costruito rimanendo nelle prime 5-6 posizioni della 2 con non un grand budget eravamo strutturati peccato che è finita così però fa parte del nostro gioco del nostro mestiere dobbiamo accettare e essere pronti alle nuove sfide io la sfida con l'arrivo in America l'avevo programmato io avevo detto qualche no durante l'estate ma anche di A2 ma anche e soprattutto di B anche in Kosovo avevo un'offerta da Golden Uli di due anni e l'ho lasciato sul piatto con tante anche economicamente valida l'ho preferita fare l'esperienza americana perché anche in quel momento lì sapete che c'è mia figlia che vive lì aveva bisogno stava finendo la scuola era un momento che e ho detto andiamo avevo programmato 4 università di visitare Ryder Columbia St. John's e North Florida vado sul primo a vedere gli allenamenti parlando della squadra femminile dopo mi sono fermato a vedere quella squadra maschile dove non conoscevo nessuno dopo lì siamo messi a parlare con il coach in ingles dopo 4 allenamenti mi ha detto andiamo a prendere un bicchierre di vino e parliamo mi dici cosa appena pensi ho dato le mie indicazioni come sempre a punto di piedi nel senso sono venuto qui a imparare a vedere il basket dei 30 secondi ma anche se mi chiedete vi dico il mio parere l'hanno apprezzato e dopo 4 giorni ho chiesto alla scuola di darmi un contratto è successo questo dopo sono entrato in bolla con loro e ho fatto tutta la stagione è un'esperienza molto importante vissuta durante il covid no no adesso in bolla cosa vuol dire? in bolla quando stai con la squadra sempre in bolla quando stai con la squadra allenamento partito le palestre sono chiuse non entra nessuno durante l'allenamento non può entrare perché arrivano i commissari anche dell'Ivy League per vedere chi c'è chi non c'è se ci lavorano e ci sono delle regole in CAA completamente è un libro così e dopo ci siamo conosciuti mi ero coinvolto in tutte le cose hanno abbracciato un po' delle mie idee hanno visto che funzionavano e mi hanno detto avere un coach pro come te perché mi consideravo mi considera il coach Jim Inglis un coach come te qui è una fortuna e mi hanno dato l'opportunità che se mi arrivasse un'offerta importante che non potevo dire di non dall'Italia potevo uscire tranquillamente e loro mi pagavano fino a quel momento lì però poi il vissuto a New York è capitato tutto bene a livello di vita anche tua moglie è venuta con te sì 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 eravamo tutti lì quindi tutta la famiglia riunita il giorno di riposo andare a vedere i concerti, i spettacoli o altro basket che veniva a Pascucci o altri per vedere NBA o altre altre partite di NCAA insomma a livello di basket molto molto formativo perché dalla parte tecnologica in America logistica tecnologica sono al top abbiamo erano cinque assistenti con altri tre studenti che aiutano per l'organizzazione e ogni cosa che succede sul campo è registrato lo puoi fermare l'allenamento a far vedere a tutti cosa è successo e ripartire insomma è tutto analizzato statistiche avanzate su tutto te hai le condizioni per fare il massimo non hai alibi devi solo lavorare di qualità sul campo sono contento anche di quello che abbiamo fatto sul campo perché abbiamo vinto 13 partite che non succedeva da anni siamo stati nel migliore 18 squadre nel NCAA per assist 18 assist a partita e abbiamo fatto insomma molte cose che non erano mai su molti record ti sei segnato qualche nome? sì sì ma c'è tutto abbiamo giocato contro molti giocatori anche nei Yale aveva due giocatori un big man un playmate insomma diverse squadre avevano delle no perché c'è qualcuno che non considera più i rookie cioè non considera più diciamo considera molto difficile giocare con i rookie nei campionati europei ma secondo me invece quando uno è forte non conta l'età noi abbiamo avuto dei ragazzi incredibili qua però il problema è che chi lo prende a rischio chi non ha soldi gli allenatori sanno che prende un rookie ma rischia lui dopo e cerca di proteggersi avendo dei budget importanti e invece chi non ce li ha deve scommettere come facevo io a Ferrara prendevo sempre uno rookie sicuro però qua abbiamo avuto uno come tre Borlessi che poi ha avuto una carriera incredibile e ha cominciato da Pesaro non voglio dire Criston perché aveva già fatto un anno in G League però anche lui era un ragazzo molto giovane McKissic abbiamo visto per poche partite purtroppo dopo è arrivata l'offerta dei colani stessa Mosiche Ston Turner abbiamo avuto tanti di rookie tanto qualcosina si sbaglia perché quando si lavora si sbaglia e fa parte del nostro mestiere però non possiamo non dare merito all'organizzazione di Pesaro tutto quello che è stato fatto in dieci anni a livello di perché quando c'hai quel tipo di budget e te c'hai una spesa limitata non puoi prendere quello che vuoi devi andare a scremare e avere i contatti giusti per prendere le giuste informazioni non come giocatore ma anche come persona perché lì anche lì vuol dire molto molti di americani che vengono qua non hanno mai visto l'Europa e hanno problemi di adattamento però per me a volte piuttosto che prendere un giocatore come abbiamo preso alcuni quest'anno di 28-29 anni che ormai si è capito che forse non hanno molti margini di miglioramento ormai a volte quasi conviene puntare sul ragazzo giovane e vedere se può sbocciare durante la stagione sono scelte magari mixando mettendo un rischio un rischio calcolato una scommessa secondo me va fatto quando non c'è dei grand budget una o due scommesse su cinque e li puoi fare però scommesse devi guardare come hanno fatto il percorso nel college se sono stati protagonisti lo potrebbero fare insomma adeguarsi al livello che c'è e questa è la bravura dei scouts insomma di scoutizzare di essere di avere contatti e di di scegliere bene senti che cosa conoscevi del campionato italiano prima di arrivare qua e poi se ti sei consigliato con qualcuno con qualche giocatore che magari ha giocato in Italia o a Pesaro addirittura con alcuni giocatori che hanno giocato in Italia che si è non parlato con alcuni giocatori di Pesaro solo I was familiar with Jay Wright Foreman, he was with the Capitanes of the G League this year, not when we played them, but I know he was there, and then obviously familiar with the other Americans as well, I actually spoke to old college teammates and people I knew from college, one, Grant Basile, he plays in second division, he's on loan from Milan to a team in City B, and then I was familiar with Mike Dahm, he played with Milan, we had the same college coach, so I'm familiar with those guys, I talked to them a little bit, Basile more than Dahm, but they kind of explained stuff to me, gave me a little bit of a rundown, I watched a little bit of the games and film, but other than that I was not too familiar with the game, I think it is closer to college in the fact that it's so methodical, and it's more of like chess than checkers, where basketball in America, seems to be so fast pace at the professional level, but I kind of like it this way, and I like seeing the change of pace, so I didn't know too much, but I'm learning it slowly and surely, and making the fine-tuned adjustments to adapt. You have a risk to meet Mike Dahm because he played in Tortona, our next opposite team. Oh, he is. He left Tomas ago to go to Istanbul. That's what I thought, so he is gone, right? Yes, yes, okay, so I know he got picked up, but I did know that we were going to be playing them, and possibly playing him, so it was, you know, one of those things where it's small world, what a coincidence, but I know he's a great player, right? So that's the thing people talk about the NBA, getting over there, but there's great players over here, Euro Cup, Euro League, great basketball, slightly different style, but still very high level, so just starting to see all that too, in a new light. Sì, non ho parlato con, prima di arrivare qui a Pesaro, di accettare la sfida, la chiamata della Vuelen, non ho parlato con nessuno dei giocatori che hanno giocato qui a Pesaro, mi ero consigliato con alcuni che comunque giocano in Italia, magari tra A2 e B che conoscevo, anche per sentito dire, anche se tra le mie conoscenze, diciamo anche queste, non proprio personalmente dirette, personalmente, c'era comunque Wright Foreman perché ce l'hanno incontrati, lui giocava con i Capitanes di Città del Messico, in Energy League, quindi sicuramente... E ha visto che era qua. Esatto, quindi ho detto, magari potrebbe essere una buona idea quella di raggiungere Justin in Italia a Pesaro e tutti comunque mi hanno parlato molto bene del basket ovviamente europeo, del basket italiano, quindi mi hanno spinto sicuramente a accettare questa sfida e mi hanno detto che sarebbe stato un tipo di basket diverso, però sicuramente tutti mi hanno spinto ad accettare questa chiamata. E uno appunto era Mike Down, che è extortona, che è andato via poco tempo fa per approdare in Eurolega, gran bel giocatore. Ecco, Giovanni, sei altre domande? Sì, a proposito subito di... stiamo parlando di questo, intanto un grande saluto da Spiroleca da parte di Claudio Ortolani, bello rivederlo qui a Pesaro. Al nostro alludo vogliamo chiedere quindi se, sempre da parte di Claudio, se gli piacerebbe rifirmare il prossimo anno un rinnovo per continuare... è una domanda complicata. Oh, sì, so far I love the city, it's been very enjoyable, and Italy as a whole has been extremely enjoyable. Obviously that opportunity has not been discussed or anything like that, but no, I do enjoy it a lot, and I think the fans are, like I said, different, the energy is different. If anything, it's just been, not overwhelming, but that's the closest word I could probably put to it, but in a good way. So I think so, I mean, I just, the more I get to know the people, running the people downtown, or at the city center, or at the store, it's just a great environment to play in and be a part of. So, possibly. Magari, sì, sicuramente, diciamo, sono arrivato appena da una partita, ho giocato appena una partita, quindi sicuramente manca del tempo per fare queste considerazioni, però sicuramente sarebbe bello, anche perché comunque ho capito subito che sono arrivato in una città come Pesaro, in cui il basket fa parte proprio del tessuto cittadino, la gente ti ferma per strada, nei negozi, al mare, tutti che parlano di basket, quindi sicuramente si capisce l'amore che questa città, che Pesaro ha, per la pallacanestro e, però, devo dire che anche questo fa parte di quella carica emotiva e di energia di cui parlavamo prima. And the wine, and the wine, and the wine, and the wine, and the wine is great. Ah, il vino, il vino è buono, ok, va bene. E un'altra cosa che... Speriamo di brindare, allora. Si chiedono se è rimasto quindi sorpreso, comunque, essendo anche una parte bassa della classifica, e aver visto un pubblico molto ampio con 6.000 persone anche sabato, questo palazzo pieno. Chi è che chiede questo? Michael. Io credo che il team è in la ultima posizione. Io credo che apprezzano, che apprezzano, la città, e il supporto che hanno qui. E, di quello che ho parlato e ho parlato con il GM e il team presidente, la storia del club è che, anche quando siamo down, fighting back, back against the wall, for that many people to come out and support us, I mean, when it matters most, of all things, yes, it's better, I think, for fans to watch when you're winning, but it's just as important, if not more important, for them to be around when you need them the most. Really get that home court advantage, and we know Pistoia, at least from what I knew on the scout, is a team that fought back on the road. They'd won tough road games against some of the top teams in the league, so having, you know, people actually there to make it feel like an away game, I think played a huge part for us. Sì, sicuramente anche questa è un'ulteriore dimostrazione di quello che dicevamo prima, quindi dell'amore, della passione che ha questa città per questo sport, per la VL, qualcosa di cui mi hanno parlato anche il presidente, il direttore sportivo, quando sono arrivato qui a Pesaro, mi hanno spiegato che è quando ovviamente si lottava, si combatteva per qualcosa di veramente importante, c'era tanta gente, ma c'è la stessa tanta gente anche adesso in cui bisogna un po' sgomitare per restare ai piani che contano, ai piani che contano. Senti, però negli Stati Uniti, questa è una domanda che faccio sempre agli americani, perché è un concetto che da loro la retrocessione non c'è, no? E quindi è un concetto che non esiste nelle loro menti. Come gli hanno spiegato l'obiettivo quindi che la VL sta inseguendo? Yeah, in the G League, there's not really any sense to it either. In the NBA, though, yes, if anything, when you lose, you get a high draft pick, so it's almost like a consolation prize. Here, there's none of that. I think, and like I said, I'm new to the scenario that they're in, but really, like I said, fighting with your back against the wall is different, opposed to, you know, just we're going to pack it in this year and turn it around and hope for better next year, where the year's really not over until it's over. And I think that's kind of one of the things that brings so much spirit to the game and something that's different here, that makes it so much more exciting, come this time of year, when teams are really still fighting and have a chance to stay alive and stay where they want to be, where the city wants them to be, where the people want them to be, and where, you know, they think they deserve to be. Yes, it's true, there's this concept sportive and cultural in America. For example, in NBA, there's only an aspect economic, so, for example, if you lose some games, there are maybe some games that are not going to be alarmed, or they are cancelled from the game, but you talk about the aspect economic, while here, there's an aspect sportive, in ball, so, we're aware of, and I have already understood that an event of the game would be a problem for this, in part, in part, maybe, for the story of the society, but, certainly, our mentality that we have to have is that it's not finished until it's not finished. Certo. Just this, Spiro, I want to talk about it, because, in fact, if you're a protagonist, we don't give us the result of that game with Milano, but we can talk about it, but we can talk about it, but we can talk about that finale of the season, where it was one of the many of this decade, where they gave us for spacciati, and the season was 2016-17, ecco, ripercorriamo quel finale di stagione, su cosa puntavi tu in quel momento? No, ma, lì c'è stata quella partita con Cremona in casa, a mezzogiorno in tv, e noi perdemmo male, era una partita quasi in-out per noi, loro hanno già dichiarato che siamo quasi sano salvi, e siamo usciti a rosse rotte con tutto il pubblico, e qualcuno dei nostri giocatori americani ha avuto l'idea di andare a Rimino a Riccione a prendere anche un bicchier di vino, non so, postando sui Facebook, sui social, io ero lì in divano che non mi alzavo, dalle tre fino a mezzanotte, come fanno tutti gli allenatori che... Che riguardavi la partita? Che riguardavi la partita, quando perdi sei un cane da solo, devi solo cercare qual è la strada, qual è di pensare e ripensare, cosa potevi fare meglio, dire di qua, e lì siamo andati in ritiro, abbiamo... Citati a Borgo Pace, giusto? Siamo andati a Borgo Pace, dopo lì abbiamo fatto, le abbiamo detto a quelli con più esperienza, ricordo Zavasca, si hanno detto prendi la squadra, prendi tutti i tuoi compagni, parlare che adesso o mai più, giocavamo a Brindisi, sabato o domenica, non mi ricordo, e le abbiamo detto adesso non conta chi tira, chi non tira, quanti tiri devo fare io, quanti tiri devo fare... Adesso conta salvare Pesaro. Abbiamo fatto anche qualche aggiustamento tattico, anche nella partita di Brindisi, sai, è andata bene, siamo vinti dopo un supplementare, e da lì siamo rimessi in careggiata, si è creata quella compattezza, dove Hazel fino a tre giorni prima è stato, volevo nominarlo al Palasport, ricordo Digos lì con Cioppia, tutti noi proteger, che gli altri americani a proteggere, e lui le ho detto, l'ho preso da parte, ha detto stai a sentire, a Pesaro è questo, ti danno l'anima ma vogliono l'anima, te fino adesso sei diventato un zombie, adesso c'è la possibilità in tre partite di fare quello che io sembravo che l'avevo già visto con il fine, quella finale così, e le avevo promesso che ti vengo a New York, dopo ci festeggieramo insieme là, e quando dove ha cominciato a fare quelle partite da 25 punti, 30 punti, non so, con Milano che tirava da 9 metri, dove siamo salvati, e ho mantenuto in estate, sono andato lì, l'ho preso, l'ho chiamato da Harlem, e siamo andati a festeggiare con una cena di pesce, lì poteva bere dopo, lì poteva bere tutto quello che voleva, però ecco, nella vita sono delle cose che succedono, dove sono le persone che fanno la parte, anche il giocatore è importante, ma devono tirar fuori qualcosa da dentro che non è solo tecnico, devono crederci, capire il contesto, come anche Love dice, che ho capito subito, ma hanno spiegato subito che cosa vuol dire per una società perdere la 1, vuol dire che meglio non pensiamo cosa succede, focus sulle cose che dobbiamo fare per non far che succede, e questo è molto importante, e si è visto anche sul campo, contro la pistola. che magari non è che faceva chissà cosa in campo, però so che aveva detto qualche parolina a qualche compagno, di sicuro quasi a mani addosso, lo so perché dopo hanno raccontato che erano dentro loro, non abbiamo visto niente noi dello staff, e con Zavasca sono ancora in rapporto, e quando adesso ero a New York, commentatore delle partite, era Slice, Slice si chiama, è un suo ex allenatore, e quando mi ha visto una foto con lui, mi ha scritto, wow, è il mio uomo, il mondo è piccolo, come ha detto lui, il mondo è piccolo, e mi ha detto che, guarda che aveva leadership anche quando era a Pittsburgh, quando era con lui, insomma, in NCAA, aveva, era un duro, sì, era un duro, già mai canesso, ma non importa, c'erano anche quei tipi di giocatori non spogliatori, perché lui era specialista, da noi era, insomma, già, infatti mi chiede, mi chiede, cosa devo fare per il futuro, fare allenatore, hanno detto, non devi fare allenatore, te ti vedo più da dirigente, e quando ha vinto la Coppa, che ha battuto Gialgiris, gli ho scritto, cosa ti avevo detto, è meglio che facevi dirigente, grazie, grazie, quindi lui sta facendo dirigente, dirigente, bene, Giovanni, se hai altre domande, poi, se no, andiamo verso la partita, diciamo, di cui dobbiamo parlare, infatti, loro facciamo una domanda prima, si sanno aggiornamenti sull'eutote, e l'altra domanda, se si possono vedere gli allenamenti durante la settimana della VL, questo chiediamo a Giovanni, gli allenamenti sono a porte chiuse, come da indicazioni della società, per quanto riguarda quest'anno, e anche su richiesta dello staff tecnico, e per quanto riguarda Tote, sta recuperando, e contiamo di averlo per il finale di stagione, sperando di rivederlo già domenica prossima, contro Cremona, con Cremona, questa era un po' la tabella di marcia, di poterlo riavere con Cremona, che poi sarà anche difficile per lui, Spiro, giocatore che sta fuori un mese, all'improvviso deve tornare per le ultime due partite, cosa può fare? Se parte con l'idea che deve spaccare il mondo, è sbagliato, ma siccome c'è lo staff di qualità, gente attorno, che li conosco bene, che lo prepareranno al modo giusto, per cercare di dare quello che può dare in quel momento lì, perché la squadra in quel momento lì, basta non il totè dei 25 punti, ma anche di 8 rimbalzi e 4 punti, dopo fa la staffetta con Love, che può fare il suo contributo, e la squadra può gioire di più, può aumentare il rendimento della squadra, come compattezza e come intensità difensiva, che possono spendere più falli, e essere più aggressivi. Senti Andrea, se puoi mettere le immagini invece di Trento Tortona, è la partita che hanno perso i nostri avversari, a Trento, c'è stato tra l'altro un sacco di polemiche, per un'azione finale, anche molte squalifiche, insomma è stato da discutere, ed è strano, perché Tortona poi è una società sempre molto corretta, mai sopra le righe, quindi evidentemente c'è qualcosa di dato veramente fastidio, ma anche perché Tortona, rischia di non entrare nei play-off, quindi per noi, anche per questo, sarà una partita molto complicata, quindi volevo chiedere a Love, la sua prima trasferta, sei curioso di fare questa esperienza, e c'è qualche americano che conosci nella nostra squadra avversaria? anti alla nostra squadra. ovviamente glad we won that's going to be the objective going on the road but I think it's going to be a great experience to just see how the guys react again and see how we all react in a situation if it's not going our way right away in a different environment on the road somewhere where we're supposed to be fighting the entire time I think we can win that game no matter what I don't think it matters about who's out there who's on the scout or what not or what they do yes you need to be aware of that but I think depending on what we do how hard we show up how physical we are how hard we play that will dictate the outcome for us as a team so I think it will be a fun experience to go on the road and fight with these guys c'è detto che parlava poco invece no si trova bene bene siamo contenti è chiaro decisamente allora sarà sicuramente stimolante e divertente giocare la mia prima partita in trasferta qui nel campionato italiano domani nello specifico ma abbiamo già fatto anche oggi in settimana ma oggi soprattutto e domani ci concentreremo un po' sull'analisi di tortona per capire anche come gioca come cercare di mettere in difficoltà personalmente non ci sono giocatori americani che conosco che giocano a tortona sappiamo abbiamo visto però come giocano quindi siamo pronti a provare ad attaccarli sarà come detto divertente la mia prima esperienza in trasferta con questa squadra in questo campionato in questo paese perché alla fine è la mia prima anche parita in trasferta in Italia quindi sarà importante capire come mettere in difficoltà a tortona ma alla fine la cosa più importante ritengo che sia un po' come giochiamo noi quindi concentrarci su noi stessi perché alla fine se diamo tutto sarà per gli altri duri abbatterci senti spiro proprio perché tortona ha sprecato già delle opportunità di essere già certa dei playoff è una partita molto rischiosa come la vedi tu normale loro vogliono il playoff perché ricordiamoci che è una delle terza e quarta potenza economica del campionato sono partiti malissimo hanno avuto la cambio della guida tecnica adesso con De Raffaele hanno fatto subito hanno cambiato marcia trovato altri nuovi equilibri anche con qualche cambio e hanno avuto anche loro e loro infortuni però ecco nessuno non ci regalerà niente quello è sicuro come diceva anche Lov non mi interessa chi sono gli altri cosa devono fare noi dipende da noi cosa facciamo noi in quella partita lì e questa è la mentalità giusta affrontare quel tipo di partita come è stato fatto nelle ultime perché anche quello di Treviso lo ripetiamo per l'ennesima volta è mancato niente per portarlo a casa mi piace che dici nessuno ci regale la niente tu se parli ancora come se fossi no ma io non c'è anche se sei fuori sei parte della famiglia ma allargata nel senso ti senti sempre che è una volta che ho fatto otto anni non è che ho fatto un anno fatto un anno e mezzo da allenatore ma da assistente e tutto e under mi sono io mi sono diventato allenatore di questo livello grazie a pesaro quello davanti che avevo fatto prima è stato ma l'università l'ho fatto a pesaro da allenatore e con scariolo in spagna e con mi ha invitato nel 2006 prima del ritiro per campionato per il resto dopo le mie esperienze e tutto però a pesaro una volta che esce lì ci sei già insomma non è che ogni volta eravamo con pascu in america a new york a guardare San John sei così guardavamo pesaro più otto la stessa cosa lui insomma ogni tanto fa parte il primo risultato che vedi insomma poi per me è stata vita nel senso io da 32 anni che vivo qua ho fatto una scelta di vita da avversario diventare allenatore insomma non è che si cancellano le cose così facilmente è vero perché ancora per chi non lo sa spiro ha lasciato l'albania per venire a pesaro dopo che scavolini e la tua squadra si incontrarono in coppa di campioni sì sì dopo nel 91 io ho scelto di venire qua e da lì è iniziato il percorso di vita è peccato che non hai potuto fare il giocatore qua perché ci dicevi prima che purtroppo quando sei arrivato qua eri considerato straniero per cui dopo avendo fatto l'euro coppa campioni per otto anni avevo anche i numeri giusti i numeri buoni eravamo tredicesimi nel ranking europeo nel 88 tu giocavi play io ero il playmaker nella squadra insomma ho fatto la mia ho smesso a 26 anni che sono ben venuto qua e ho iniziato dopo a allenare a Fano e tutta l'altra fila dei minus però ecco partendo dall'ultimo anno la cosa che mi sento di dire soprattutto ai allenatori che noi abbiamo una classe dei allenatori di livello altissimo in Italia la scuola facendo sette mesi in America guardando un po' tutti sia high school che NCAA ho visto che noi non abbiamo insomma non ci manca niente niente anzi abbiamo molte cose nel come insegnare la palcanestro grazie alla nostra scuola possiamo dirla nostra ovunque ma per aver coraggio di muoversi a me mi è capitato in questa età io lo spingo gli altri a 35 di andare a fare qualche esperienza perché l'America ti dà tanto sui altri tutti i punti di vista però con il bagaglio che hai qui puoi entrare in delle organizzazioni che per molte può diventare un'altra un'altra tipo di carriera certo certo infatti ogni tanto che parlo con i miei colleghi qui anche a Pesaro o fuori dico ragazzi provate andate il mondo non finisce a Bologna o a Roseto dovete chi gioca al basket chi allena basket deve avere open mind e cercare di confrontarsi con altre realtà rischiare e provarci quello che ho fatto tutta la vita complimenti per questo allora abbiamo altri due interventi un abbraccio a Spiroleca da parte di Giorgio Secondini Giova Scaffati ha reso noto che ha risolto anticipatamente il contratto con Demetrio Rivers invece ci arriva un messaggio da Marco coach De Raffaele sarà senza Ismael Camagate un motivo in più per spingere e provare a vincere forza ragazzi siamo tutti con voi il campionato ci dice Michael è quasi finito Betta ci sono novità sul possibile nuovo presidente? allora questo è un discorso molto complesso vi prometto che ne parleremo magari il 2 maggio e se per caso dovessimo fare una puntata extra di cui però ancora non lo sappiamo vediamo insomma cercheremo di darvi delle novità quando il focus non sarà più sulla salvezza ma prima bisogna sapere dove siamo ecco perché cambierà molto questo se Pesaro riuscirà a mantenere la categoria o se invece dovrà ripartire dal piano di sotto penso che non sarà la stessa cosa insomma per tanti motivi non pensiamoci al momento non dobbiamo neanche pensare non dobbiamo neanche pensare si fa così vero? tortono a focus voi vi siete salvati così non parlavate nemmeno della 2? se facevamo la testa eravamo morti da un pezzo allora vi faccio riposare due minuti perché noi facciamo sempre alla fine della puntata l'album dei ricordi dedicando a un giocatore americano che ha vestito la maglia della VL allora questa sera ti faccio un regalo perché uno di questi giocatori era con te e si chiama Rothney Clark e quindi adesso ci divertiamo a vedere qualche cosa Andrea se puoi mettere in onda il video che ha preparato come sempre Claudio Iacchini di VL Pesaro History allora Rothney Clark ha giocato in tutto 19 partite con la maglia bianco-rossa ma restano indelebili nella memoria dei tifosi perché per ben due volte Clark è stato l'uomo del destino per la VL il play venuto dall'Australia salvò la squadra dalla retrocessione per due stagioni di fila la prima volta arrivò nella stagione 16-17 giocando appena 8 partite che bastarono però per tirar fuori la squadra dalle secche Clark segnò 156 punti tenendo quindi una media di 19,5 punti questo tiro che vedete sopra la testa non elegante ma molto efficace l'anno seguente incredibile ma vero la storia si ripetendo allo stesso identico modo Rothney disputò la stagione 17-18 in Australia e sempre con la stessa squadra gli Illawara Hawks poi arrivò di nuovo una chiamata da Pesaro in questa seconda parentesi con la VL giocò 11 partite segnando 192 punti che fanno 17,4 a sera una media leggermente inferiore a quella del suo primo anno fisicamente niente di eccezionale 1,83 per 84 kg ma un torello capace di incidere sulle partite come pochi con ritmi indiavolati un mortifero tiro da 3 scagliato spesso anche in transizione se siamo rimasti nella massima serie ancora oggi gli dobbiamo davvero molto Spiro che vuoi dirci di Roma? è uno dei miei ragazzi preferiti che ancora ha il contatto ha incontrato dopo in A2 mi hanno chiamato per fare la promozione sua in altri campionati insomma deve avere un assetto per fare in modo che lui è un atipico non è un playmaker ma un scorer con un tiro mortifero io gli passavo la palla prima dell'inizio dei allenamenti faceva 96 su 100 quasi sempre se no non iniziava l'allenamento lui faceva sempre 200 realizzati prima di iniziare per questo non è che uno segna perché è nato e segna segnando tanto lavoro tanto applicazione e mentalità vincente bel giocatore che abbiamo avuto il piacere di ricordare anche un bravissimo ripirato dal basket ricordiamo il 4 gennaio di quest'anno sì per i problemi nel piede allora io ho ancora solo 3 minuti e stasera devo chiudere perché le ultime puntate siamo andati abbiamo sbragato proprio quindi siccome ci sono poi dei programmi che ci seguono è giusto rispettare gli orari poi l'Oden deve andare anche a dormire per cui vorrei che Giovanni desse intanto la soluzione del contest andiamo subito al contest nella stagione 2016 17 la VL di Spirolecca si salvò vincendo contro la Olimpia Milano 90 a 79 con 27 punti di Gerald Jones altro giocatore della miseria vincitrice è Rosanna che si aggiudica due biglietti per la partita contro Cremone ricordiamo ce l'avete chiesto a molti purtroppo ancora non si sa l'orario perché la Lega Basket non lo ha comunicato non lo comunicherà all'inizio della prossima settimana bene Rosanna complimenti sì le ultime due partite godranno della legge della contemporaneità quindi si giocheranno tutte allo stesso orario per cui negli ultimi campionati si è giocato di sera quindi spesso alle 8 e mezza sarebbe meglio giocare di pomeriggio per noi giornalisti però ci adeguiamo insomma a quello che decidono però ecco si giocherà non sfalsati quindi sicuramente non sarà sabato non sarà domenica mezzogiorno ma sarà domenica o di pomeriggio o di sera quindi appena lo sapremo ve lo comunicheremo Laudon se vuoi salutare i tifosi vuoi dire qualcosa alla gente che ci ha guardato questa sera sicuramente non posso che ringraziare tutti per essere stato qui stasera per avermi permesso di comunque esprimere le mie sensazioni di farmi anche un po' conoscere un po' meglio e spero di rivedere tanta gente come è stato contro Pistoli anche contro Cremona ma spero anche di vedere diversi tifosi pesaresi già a Casale e Monferrato bene spero un saluto anche per te ma è stato un piacere dopo un po' tornare a Pesaro dopo i giri intorno al mondo e per il basket è stato bello parlare di basket stare vicino alla WL speriamo adesso che si succede quello che deve succedere e focus domenica sabato per cercare di fare con un'occhiata dalle altre campi però prima do fare il dovere certo allora grazie anche a Giovanni Bruscia per il suo prezioso contributo grazie a Giovanni Zidda come sempre puntuale ai social e ad Andrea Sabatini in regia noi non ci vediamo giovedì prossimo perché è il 25 aprile è festa quindi anche i tecnici da tv hanno diritto al loro riposo quindi ci rivedremo il giovedì successivo sperando che nel frattempo siano successe davvero tante cose belle arrivederci e buona serata da Elisabetta Ferri ok hai visto quante novità al Conad di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conad di Montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parquet ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio